Il MAU si trova in prima linea in queste attività della Japan Week. Come Fondazione Torino Musei siamo veramente molto onorati e contenti di ospitare questo evento cittadino che è a livello internazionale. Il MAU come museo ha una grandissima collezione di arte giapponese e queste attività della Japan Week hanno lo scopo anche di rivivificare tutto il patrimonio artistico del MAU. Vedrete oggetti tipici della cultura giapponese che si fondono con le nostre opere d'arte del patrimonio del museo. Grazie alla Japan Week è un'occasione che invito tutti a vivere personalmente. perché è davvero un'emozione vedere questa cultura che si fonde con la città di Torino. Il Museo d'Arte Orientale è un'eccellenza della città di Torino e colgo l'occasione per ricordare a tutti che quest'anno il museo compie dieci anni. Quindi ci saranno a breve tutti i festeggiamenti per questo importante anniversario del museo. Grazie.